signori buongiorno e bentornati sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale negli scorsi video soprattutto nell'ultimo periodo mi è capitato spesso di dire frasi come il master poi descriverà come oppure in base a come il master deciderà di descrivere la scena ma mi sono accorto che effettivamente questa è una pratica importante all'interno del gioco di ruolo ma non ho mai fatto un video in cui la spiegassi in maniera formale mettiamola così quindi iniziamo l'anno andando a parlare di una delle tecniche fondamentali del masteraggio ovvero sia il reskin il reskin di per sé è uno strumento molto semplice ma funziona basandosi su alcuni aspetti fondamentali delle proprie caratteristiche tecniche del gioco di ruolo come arte narrativa volendo essere tecnici si parla di reskin quando la rappresentazione estetica di un elemento del mondo di gioco condiviso viene alterata lasciando però intatto il suo funzionamento meccanico in parole povere quando qualcosa viene descritto in maniera diversa da quello che ci si aspetterebbe ma lasciando invariato il suo funzionamento meccanico il master ad esempio potrebbe descrivere lo spadone impugnato dal re degli orchi come un rozzo pezzo di metallo malamente affilato e lo spadone del generale dei paladini come una lama splendente con l'elsa elaborata ma nella pratica entrambe le armi seguiranno esattamente le stesse regole faranno lo stesso danno avranno le stesse capacità in base al regolamento che state utilizzando nella pratica saranno due istanze della stessa arma semplicemente descritte in maniera diversa per sottolineare alcuni aspetti dell'immaginario che c'è dietro il personaggio che le impugna questo è un esempio molto semplice ma lo stesso principio potrebbe adattarsi a qualunque cosa all'interno del mondo di gioco condiviso che abbia la sua componente di regole il master non deve limitarsi a descrivere in maniera diversa le armi ma un'intera creatura potrebbe essere reschinnata per sembarne un'altra l'orco con lo spadone potrebbe diventare un uomo bestia con una grande sciabola e potrebbe diventare un alieno armato di spada laser dopotutto il termine orco non è altro che un modo convenzionale con cui ci si riferisce a un insieme di statistiche abilità capacità di una creatura all'interno di quello che è appunto il mondo di gioco orco viene detto per rendere la plausibilità del mondo invece di dire creatura molto forte o creatura molto feroce il principio fondamentale che sta dietro a tutto questo è quello della separazione tra la componente meccanica di un gioco e la sua componente di narrazione è un discorso abbastanza lungo e complesso perché riguarda un sacco di aspetti di filosofia del gioco e lo affronteremo più avanti in una serie di video dedicata non nell'immediato per adesso però limitiamoci a dire che la componente meccanica di un gioco diciamo le sue regole servono per normare il comportamento tra i giocatori limitare il livello del potere dei personaggi stabilire chi può fare cosa e quando può farla e anche per incoraggiare un determinato tipo di comportamento che è coerente con il tipo di gioco si vuole fare le regole di un gioco di ruolo investigativo faranno in modo che i giocatori tendano a comportarsi come degli investigatori un gioco in cui è importante il combattimento avrà delle regole che spingono i giocatori a combattere contro i png le descrizioni che invece vengono fatte dal master e dai giocatori hanno una funzione estetica servono a rendere il gioco più interessante a rendere l'immaginario condiviso più profondo a rendere la storia più verosimile diciamo servono a far appassionare i giocatori al racconto se andare a modificare le regole è un lavoro lungo e complesso ne avevamo parlato anche in un vecchio video ve lo linko qua su da qualche parte comunque se modificare le regole è qualcosa di complesso che potrebbe anche generare degli effetti a cascata andare a modificare la descrizione la narrazione è relativamente più semplice c'è comunque un grado di complessità ma cambiare un aspetto della narrazione del gioco normalmente ha effetti limitati solo a quella specifica scena e normalmente immediatamente evidenti si corre comunque il rischio di peggiorare il racconto ma se si è sbagliato qualcosa lo si scopre subito e si può subito correggersi magari descrivere un orco barbaro come un alieno con una spada laser potrebbe risultare per esempio potrebbe risultare fuori contesto se l'avventura fosse in un'ambientazione contemporanea o in ambientazione fantasy questo danneggerebbe la sospensione dell'incredulità dei giocatori ma ovviamente ve ne accorgereste subito che i giocatori non capiscono la scena in più ha il vantaggio che dato che l'orco barbaro con spadone ha già una serie di regole all'interno della meccanica del gioco che le governano indipendentemente se la scena piace o meno i giocatori avranno comunque la possibilità di interagire all'interno del gioco con quel png i giocatori potranno rubargli la spada laser e utilizzarla non correrete il rischio che le regole le nuove regole che avete creato per la spada laser la possano rendere un'abba troppo forte o troppo scarsa o che abbia magari delle abilità speciali che vanno in contraddizione con altri elementi del regolamento sarà semplicemente un normale spadone come i giocatori avrebbero già potuto recuperarne uno semplicemente avrà una forma bizzarra per questo usando il reskin potete risolvere in maniera pratica e veloce molti dei problemi che invece se doveste andare a modificare il livello meccanico del gioco richiederebbero un sacco del tempo che avete a disposizione per preparare la vostra quest innanzitutto questo vi permette di creare degli incontri generici o delle creature generiche che poi potete riutilizzare in quest nella maniera che vi è più conveniente in quel momento nello scorso video quello sulla collana di perle abbiamo parlato del fatto che i personaggi potrebbero allearsi coi pirati o potrebbero restare alleati con i marinai della nave che li sta trasportando in linea teorica il master dovrebbe creare due tipi di creature diverse una che sarebbe il pirata e una che sarebbe il marinaio e usarle a seconda di cosa abbiano scelto i giocatori ma in realtà a livello di meccanica del gioco molto probabilmente le differenze tra un pirata e un marinaio sono più che trascurabili il master potrebbe limitarsi a scrivere un solo profilo di un generico combattente con una sciabola e poi limitarsi a cambiare la descrizione di quel profilo in base alla scelta dei giocatori se i giocatori sceglieranno di allearsi con i marinai allora quell'umanoide sarà un pirata con la benda sull'occhio un pappagallo sulla spalla se invece sceglieranno di aiutare i pirati quello diventerà il marinaio della nave con la maglietta a righe e il cappello a paperino quel profilo potrebbe anche ritornare più avanti nel gioco per qualunque cattivo generico armato di spada potrebbe diventare un brigante con un pelliccione sulle spalle che salta fuori lungo la strada che attraversa il bosco per tendere un agguato potrebbe diventare il cultista pazzo che fa rituali nell'antico tempio abbandonato non ci si deve nemmeno limitare alle sole creature l'intero dungeon della nave può essere reschinnato a seconda della bisogna se i giocatori assalteranno la nave dei pirati il dungeon dell'interno della nave verrà descritto come l'interno una nave di pirati con cannoni e bottiglie di rum sparse in giro se invece attaccheranno i marinai quella diventerà il dungeon di una nave mercantile con casse di merci e bottiglie di rum sparse in giro il master si limiterà a cambiare l'atmosfera e il modo di comportarsi dei nemici all'interno del dungeon ma non la pianta del dungeon o gli incontri che sono previsti nelle varie stanze e volendo lo stesso schema del dungeon con gli stessi incontri potrebbe essere a sua volta reschinnato per diventare l'accampamento dei briganti nel bosco e le baracche dei cultisti vicino all'antica chiesa abbandonata potenzialmente potreste prendere l'intero blocco di meccaniche che governano una parte di una storia di una quest un'intera città un intero regno e spostarlo all'interno di un'altra quest che utilizzi lo stesso sistema semplicemente cambiando i nomi e le descrizioni dei posti dei png dell'ambiente ma fondamentalmente staccando un pezzo di una storia e riattaccandolo in un'altra storia e poi dando una patina di reskin per non far notare che quel pezzo arriva in una storia differente il reskin è anche utile per assecondare delle richieste dei giocatori che magari vi sarebbe altrimenti difficile poter assecondare all'interno del sistema che state utilizzando magari un giocatore vuole un'arma o un oggetto particolare che non è presente nel sistema però potreste trovare qualcosa di analogo e semplicemente descriverlo in una maniera diversa il giocatore che nel fantasy vuole assolutamente avere un fucile potrebbe usare le regole di una balestra molto probabilmente saranno concettualmente simili a quelle che avrebbe un fucile e voi non dovete creare da zero l'intera classe di armi dei fucili semplicemente quel giocatore avrà una balestra che usa le regole della balestra ma dirà che ha un fucile e la gente si immaginerà che lui sta imbracciando un fucile le stesse capacità o abilità di un personaggio potrebbero essere reschinnate per ottenere un flavor diverso magari nel vostro gruppo di gioco non c'è un druido che ha la possibilità di trasformarsi in un animale c'è un cultista di cthulhu che ha la capacità di trasformarsi in un orrore tentacolare indescrivibile se il giocatore è interessato a fare una cosa del genere ben venga sicuramente il cultista di cthulhu che si trasforma in un mostro indescrivibile sia a livello di estetica del gioco sia a livello di temi che può introdurre nella narrazione sarà totalmente diverso da un druido però fin tanto che segue le regole del druido la sua meccanica la trasformazione e la stessa meccanica del druido tutto quello che lui può fare all'interno del gioco sarà già normato e voi non dovrete preoccuparvi che quello che possa fare sia troppo troppo poco rispetto all'abilità degli altri personaggi questi possiamo dire che sono dei casi limite ma reschinn molto più limitati potrebbero semplicemente venire incontro all'estetica al gusto personale dei vari giocatori senza causare dei problemi alla meccanica del gioco magari sia il barbaro che il guerriero del vostro gruppo indossano una cotta di maglia che segue le regole della cotta di maglia ha l'armatura di una cotta di maglia riduce i danni con una cotta di maglia dipende dal sistema che utilizzate però semplicemente il barbaro la descriverà come una serie di giberne che tengono su due enormi spagliacci e il guerriero la descriverà come un'armatura laminata con sopra un tabarro a cavaliere medievale da regole saranno esattamente la stessa armatura soggetta alle stesse limitazioni però uno dei vostri giocatori gli piace immaginarsi come con il barbaro e all'altro gli piace immaginarsi come lancillotto diciamo che per questa settimana la finiamo qui questa settimana per iniziare bene l'anno un argomento relativamente facile ma ci servirà per quello di cui andremo a parlare la prossima settimana nella rubrica delle fondamenta del dungeon cioè l'illusionismo del game master e come la storia debba essere presentata ai giocatori non necessariamente allo stesso modo in cui il master la presenta a se stesso e quello sarà un argomento molto più complicato fino a quel momento comunque mi piacerebbe sapere da voi cosa ne pensate del reskin se lo utilizzavate se non lo utilizzavate se avete altri trucchi o metodi per utilizzarlo al meglio scrivetelo nella sezione dei commenti qui sotto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale schiacciate la campanella se volete richiedere le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo al prossimo video